Signor Serfer, ci racconta con noi che già erano i suoi uomini, che ci sono altri casi in corte. Qual è il caso che ci sono i suoi uomini, che avviene da un romano di Hombra a un altro romano che si fa. E ci sono i suoi uomini. Ci sono i suoi uomini che si tratta di due casi di assassinato, e di due un caso lamentabile, non ci sono i suoi uomini. Ci sono un brindamento tra due romani di Hombra, un romano di 60, un altro romano di 54 anni di edad, non ci sono i suoi uomini, nel primo anno di anno, nel primo anno di anno di 2015, non ci sono i suoi uomini, e un uomini che l'altro matano. In questo caso, abbiamo visto il famiglia, perché il ministro pubblico, non ci sono le differenze, che sono in questo modo, in questo modo, in questo modo, ci sono le raudate in questo momento, se ci sono i suoi uomini, il caso di rinconti, non è un caso di rinconti, ma non ci sono i due romani, e il giorno di rinconti è un romano, è un sorpreso, che è ancora qui, e ci sono i suoi uomini, anche se cazzo di prigione, un caso lamentabile, un giorno tantissimo caso di asesinato e il caso che, grazie a Dio, non con arma e candela, ma con c'è un cucho. Mi credo che il caso è sicuro che il momento inizia, se che il momento è sicuro che il momento è sicuro che il momento è sicuro? Si, anche il caso non è sicuro che il corte si cita un deciso che un gente per anno, un castigo, se c'è 3-4 anni, se c'è un veredicto, ma non c'è un caso, 3-4 anni di prigione, se c'è un suo tempo, e in questo caso ci sono 2-3 anni per anno, un veredicto.